Cresceranno del 10% i fondi a disposizione del Comitato Resistenza e Costituzione insediato il 12 settembre a Palazzo Lascaris che sarà guidato dal Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e dal Vice Presidente Mauro Salizzoni L'aumento del budget fa parte di una revisione delle risorse che riguarda tutti gli organismi consultivi Sarà un risvolto totalmente diverso rispetto al passato perché mia intenzione è già nell'Ufficio di Presidenza a aumentare anche i finanziamenti del Comitato Questo è un Comitato impegnativo politicamente e istituzionalmente Ci deve essere un rinnovo globale per un rilancio del Comitato stesso per rinnovare e rendere al passo anche sui social, sui format innovativi Proseguiranno le iniziative avviate negli anni scorsi ma si darà spazio anche ai nuovi progetti Il Comitato consoliderà i rapporti con il mondo della scuola e presterà particolare attenzione alla Costituzione soprattutto nelle parti che riguardano regionalismo, autonomie e identità Il Comitato Resistenza e Costituzione è stato istituito nel 1976 per conservare e valorizzare la memoria storica della Resistenza e promuovere la conoscenza dei principi alla base della Costituzione Repubblicana ed è composto da rappresentanti di associazioni antifasciste e combattentistiche istituti storici della Resistenza, istituzioni culturali, sindacali, politiche e degli enti locali Faranno parte del Comitato Resistenza e Costituzione anche l'assessore ai rapporti con il Consiglio regionale Roberto Rosso e i consiglieri Daniele Valle, PD Federico Perugini, Lega, Marco Grimaldi, Louvre Mario Giacone, Gruppo Chiamparino per il Piemonte Silvio Magliano, Moderati e Francesca Frediani, 5 Stelle L'attualità di questo Comitato è estremamente importante visto anche il momento difficile che il nostro Paese e non soltanto sta vivendo bisognerà continuare anzitutto con le iniziative che sono state prese negli ultimi 5 anni soprattutto bisognerà parlare ai giovani con un linguaggio per i giovani attraverso la musica ad esempio, attraverso lo spettacolo, attraverso forme nuove perché chi è nato nel 1980-1990 non può certo sapere e capire totalmente quello che è avvenuto 40-50 anni prima